Ciao amici, ciao amiche di Promiroles, allora benvenuti in una nuova riflessione fotografica, una nuova riflessione che va a toccare una delle ossessioni dei fotografi che scattano, che fotografano in digitale. Vi ho già parlato in altre riflessioni fotografiche dell'ossessione per lo sfocato, per la nitidezza, per il rumore, oggi vi parlo dell'ossessione per la risoluzione, cioè per avere fotocamera in sostanza con tanti megapixel. Prima di tutto però vi ricordo che questa riflessione fotografica, così come tutte le riflessioni fotografiche fatte fino ad oggi, le puoi trovare anche su Spotify, quindi in versione podcast, va bene, e su iTunes. Mi sto attivando anche per essere presenti sulle altre piattaforme podcast, quindi questa informazione di servizio è importante. Tra l'altro in podcast farò delle puntate solamente appunto in versione audio dove vado a rispondere alle domande che mi sono state fatte o considerazioni interessanti che sono state fatte riguardo alle riflessioni fotografiche. Per cui andate anche su Spotify, riflessioni fotografiche ProMirror, se mi trovate, c'è il mio volto, quindi mi riconoscete, e è l'occasione anche per essere connessi tramite audio su Spotify. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale. Allora torniamo a bomba l'oggetto di oggi e la domanda che io ho fatto a tante persone, a tante diverse persone che hanno acquistato fotocamere con sensori molto risoluti, gli ho chiesto ma perché tu hai comprato una fotocamera da X megapixel, 50, 42, 47, 45, 61, 64, 100, ormai i numeri, e diamo i numeri, mi sembra che il sensore più risoluto attualmente sia quello di Sony con 64 milioni di pixel su full frame, poi sul large format di Fuji andiamo a 100 milioni di pixel. Quindi come mai? Allora sostanzialmente, adesso ve le, come dire, estremizzo le risposte, faccio una media, la maggior parte delle persone hanno detto è perché io voglio il massimo, ok? Quindi voglio il massimo. In sostanza associano all'idea di fotocamera con tanta risoluzione essere il top che il produttore è in grado di dare nel suo settore. Oppure perché diciamo perché così posso croppare, o ancora perché così posso stampare più grande, va bene? Queste sono le tre principali ragioni, poi se ce ne sono altre magari tu che utilizzi fotocamere con alta risoluzione, magari può dirmelo e può essere un ulteriore spunto di riflessione. Allora cominciamo ad analizzare queste tre punti, va bene? Allora cominciamo sul discorso perché voglio il massimo. Allora lì c'è poco da discutere, se una persona crede che una fotocamera da 60 e più milioni di pixel, da 50 e più milioni di pixel è il massimo, lì posso solo dire che il marketing ha lavorato molto bene, cioè è riuscito a far entrare nella testa delle persone che tanti milioni di pixel vuol dire tanta qualità d'immagine. Lì io non discuto, se questa è l'idea, onestamente ognuno è libero di averne una. Per quanto riguarda il crop, il discorso del crop può essere vero, può essere vero, nel senso che è chiaro che se io ho una fotocamera, prendi la Leica Q2 che ha, sono sbaglio, 47 milioni di pixel, ho un 28 mm fisso, è normale che io posso avere un 50, un 70 mm e se voglio anche un 100 mm, ok? Quindi è normale che io posso croppare e posso in qualche modo rendere più vicino il soggetto, avere la percezione che il soggetto riempa di più il fotogramma e quindi si è più vicino. Questa cosa è vera, non dico di no, peccato però che la prospettiva rimarrà sempre di un 28 mm, cioè non ci dimentichiamo che cambiando una focale si cambia anche, oltre all'angolo di campo, va bene, ma si cambia anche la prospettiva, quindi la percezione di schiacciamento dei piani e anche lo sfocato, va bene. Quindi per quanto mi riguarda a me non piace tanto l'idea di croppare, sì in alcuni casi lo si può fare, soprattutto se uno croppa magari da un 35, un 50 mm. In linea generale però preferisco utilizzare la focale più appropriata. Questa è un po' la mia filosofia, però effettivamente se io ho tanti milioni di pixel posso croppare, prendi la fotografia naturalistica, anche lì una persona magari ha un 600 mm, croppando ricrea un 800 mm. È una funzione che può tornare comoda, però dopo vedremo i pro e i contro di avere fotocamere con sensori con molta risoluzione. Parlando di stampa, le cose diventano più complicate e un pochino più delicate, perché è chiaro che se io compro un 8,50 della Nikon, faccio un esempio, o una Lega Q2, per postare solamente le foto sui social e su Instagram, è ovvio che è un po' da folli, perché non ha senso avere così tanta risoluzione per poi comprimarla e ridurla agli informati web. Quindi su quello neanche discuto, perché mi sembra ovvio il discorso. Sulla stampa le cose, dicevo, diventano un pochino più complesse. La stampa è chiaro che noi la osserviamo con che cosa, le stampe? Con gli occhi, per cui alla fine il filtro finale, l'anello tra virgolette più debole o diciamo l'elemento sul quale poi bisogna considerare la risoluzione è quello dell'occhio, perché io posso avere anche una risoluzione di una fotocamera, di un'ottica di ipotesi assurdo, un milione di linee per millimetro, sto chiaramente disparando un numero così senza senso, ma se poi il mio occhio ne risolve 12, ovviamente le cose cambiano, ok? Cioè io tutto quel dettaglio in più non sono in grado di vedere, per non parlare poi del fatto che la carta comunque è un ulteriore filtro, cioè riduce ulteriormente il numero di linee per millimetro riproducibile, cioè la risoluzione della carta è inferiore, ad esempio è una risoluzione di un sensore o di una pellicola, ok? Le migliori carte arrivano a 75 linee per millimetro, non sono le carte matte, sono le carte lucide a superficie fine, va bene? Comunque, quanto risolve l'occhio? L'occhio risolve 12 linee per millimetro, se poi le rapportiamo al pollice come unità di misura dobbiamo moltiplicare per 2,54, ok? E otteniamo 306 linee, ok? Che, guarda caso, la risoluzione di cui tutti parlano, i famosi 300 ppi, insomma dpi, non è la stessa cosa, i dpi sono i dot, i ppi sono i pixel, ok? Per pollice. Comunque, diciamo che è sostanzialmente uguale anche se non è corretto, ma comunque semplifichiamo un po' il discorso perché sennò diventa un discorso troppo lungo. Quindi, 300 dpi è quello che l'occhio ha una distanza di 60 cm, entro i 60 cm, che ci vede bene ovviamente l'occhio, riesce a risolvere, va bene? Gli stampatori esperti, ma anche i grafici, diciamo, esperti, sanno benissimo che raddoppiando la distanza di visione si dimezza il potere risolvente dell'occhio, cioè più guardo da lontano una stampa e meno capacità ho di risolvere i dettagli, ok? Per farvi un esempio di questo ragionamento, entro i 60 cm il nostro occhio, ripeto che ci vede benissimo, stampata in maniera perfetta, contrasto perfetto, quindi in condizioni ideali risolve i famosi 300, ragioniamo adesso in pixel per pollice, ok? Così magari vi è più semplice da seguire. Se io allontano la stampa a un metro e mezzo circa, ok? Scendo a circa 120-150 ppi, ok? Se io scendo, allontano la stampa a, facciamo 3 metri, quindi raddoppiamo la distanza, arriviamo a 60 ppi, fino, andando avanti in questo modo, se io ad esempio guardo un cartellone anche enorme, a distanza di più di 200 metri, i classici cartelloni pubblicitari che si vedono attaccati ai muri, sopra i palazzi, cose del genere, addirittura arriviamo a 1 ppi, cioè sopra i 200 metri a 1 ppi, quindi sostanzialmente se noi ci avvicinassimo vedremmo dei punti, ok? Niente di più. Un'altra, diciamo, regola un po' empirica, ma non è tanto empirica, ci sono anche lì dei calcoli ben precisi, comunque un'altra regola empirica che si, come dire, tramanda un po' all'interno del mondo della stampa è che sicuramente 300 ppi o dpi, insomma, è la risoluzione teoricamente perfetta e uno dice ma se stampo a 600 dpi, a 600 dpi o lì teoricamente è meglio, peccato che l'occhio non è in grado di risolverlo. Se uno utilizza un lentino probabilmente un minimo di differenza la vede, ecco perché non ha senso stampare a risoluzioni esagerate sopra i 300 perché tanto l'occhio non li ciappa, non le vede. Se invece scendiamo, che cosa succede? Qual è il limite oltre il quale la differenza diventa visibile? Io vi dico per esperienza che tra 240 e 300 le differenze sono praticamente invisibili su qualsiasi tipo di stampa. Fino a 180, alcuni dicono 150, io onestamente no, credo che 180 sia il limite almeno per i miei standard, oltre il quale è bene non andare, cioè se io stampo una foto a 300 dpi e a 180 dpi, ve le metto lo stesso file ovviamente, ve lo metto sotto gli occhi, vi posso garantire che diventa difficilissimo notare le differenze. Lo si notano nelle immagini dove c'è magari un dettaglio finissimo, ok? Allora sì, potrebbe essere che quello a 180 dpi da vicino, quindi molto da vicino, non alla distanza normale di visione, perché parliamo di stampa molto grandi, ma alla distanza diciamo avvicinata potete vedere sicuramente che quella a 300 dpi è un pochino meglio. Ma vi faccio un esempio pratico, prendiamo la Sony a7 III, che diciamo dai è la fotocamera che tutti hanno un po' sulla bocca, no? 24 milioni di pixel. Se noi proviamo a 300 dpi corrisponde, adesso ho arrotondato, a 50 cm, diciamo un A3, l'A3 è un pochino meno, ma l'A3 più scusate, è un pochino meno di 50 cm, ma insomma siamo lì. Quindi con una Sony a7 III io posso stampare a piena risoluzione, cioè a 300 dpi, a 50 cm il lato lungo, va bene? Se io imposto però i 180 dpi, a quel punto ovviamente aumentano le dimensioni di stampa e il lato lungo, ok, diventa, arriva a 85 cm, sempre arrotondando, quindi 85 cm di stampa, ragazzi è veramente tantissima roba. Ma se uno scatta correttamente, quindi con un corretto workflow, che spiego tantissimo, questi concetti li spiego tutti all'interno del corso dello scatto alla stampa, e spiego anche qual è il corretto workflow. Comunque scatta correttamente, prendiamo ad esempio un paesaggista dove la qualità è importante, quindi scatta a cavalletto, alza lo specchio, scatto ritardato, ottica che risolve il senso, è in grado di risolvere anche i bordi del sensore. Non bisogna essere, non bisogna estremizzare adesso questo discorso, cioè sostanzialmente se una persona scatta bene, è chiaro che se tu scatti a mano libera un quindicesimo di secondo non va da nessuna parte, ma se tu scatti correttamente, puoi tranquillamente arrivare fino a raddoppiare, interpolando in maniera appropriata, la lunghezza del file. Quindi se tu hai 85 cm, arrivi a stampare fino a 1,70 m, senza perdere eccessivamente qualità d'immagine. Soprattutto se consideriamo che tu una stampa di 1,70 m non è che la vedi attaccata a 1 cm, cioè la vedrai almeno a 1,5 m, che sappiamo che qui appunto la risoluzione scende dell'occhio, scende addirittura a 120 ppi, no? Cioè 120 pixel per pollice. Quindi capite bene che in realtà, sostanza, adesso forse vi ho complicato un pochino le cose sparandovi tutti questi numeri, per chi non è pratico fa un po' fatica, il concetto chiave ragazzi è che anche con una fotocamera che non ha una risoluzione esasperata. Si possono ottenere tranquillamente stampe anche di grande dimensione, va bene? Di grande dimensione. Quello che fa più la differenza è, come dire, conoscere il workflow, cioè scattare adeguatamente e post produrre, sviluppare in maniera appropriata l'immagine. Quello sì che fa tanto la differenza. Però, ottenendo le somme, quali sono i pro e i contro di una fotocamera a risoluzione molto elevata. Parliamo, diciamo, ormai da 40 più milioni di pixel, ok? Togliamo anche il 36 milioni di pixel. Da 40 milioni di pixel, perché ormai si è alzata l'asticella. I pro sono che sì, posso stampare ad una risoluzione più grande stampe più grande, quindi posso arrivare a, insomma, una 2 a piena risoluzione. Quindi se voglio vedere una 2, che è un 60x40 cm, a 5 cm di distanza, vedrò meglio i dettagli, va bene? Io lo trovo un po' folle, perché un 60x40, cioè non è che ci attacco il naso alla stampa, però oggettivamente è possibile farlo. Posso ovviamente croppare, questo è un altro aspetto, e posso, come dire, avere più informazioni colore, perché è normale, soprattutto quei sensori a matrice Bayer, se io ho 40 milioni di pixel, beh, ho 20 milioni dedicati al verde, ai pixel verde, e poi la differenza che hai, quindi altri 20 milioni di pixel, 10 milioni sono per il blu, 10 milioni sono per il rosso. In sostanza hai più informazioni, quindi hai un pochino più ciccia da gestire. Quali sono però i contro? Uno, hai costi più elevati, cioè comprare una fotocamera con un sensore molto risoluto comporta tutta una serie di costi in più, per l'acquisto della fotocamera stessa, che può essere anche il doppio rispetto a un modello, diciamo, normale. Hai a che fare con ottiche più costose, che devono essere solo ottiche top. Ragazzi, se comprate una fotocamera da 40 e più milioni di pixel, poi ci mettete un'ottica pensata per la pellicola, ok, ci sono ottiche a pellicola che sono in grado di risolvere tante milioni di pixel, ma sono poche, non ha senso. Oppure, se avete ottiche che performano male ai bordi, non ha senso, perché chiaramente più stampate grande, più il difetto diventa visibile, va bene. Per cui siete costretti a acquistare ottiche top di quel sistema, e sono costi. Poi avete una, come dire, una compressione, anche se ormai non esasperata, ma comunque del rapporto gamma-dinamica-rumore. Perché è normale che se io i pixel diventano più piccoli, ho comunque pixel più piccoli, e quindi un pochino più di rumore, e anche la gamma-dinamica un pochino anerisente. Ovvio, ripeto, oggi abbiamo sensori fantastici, però è anche vero che se quella tecnologia la metti su un sensore da 12 milioni di pixel, riesce ad avere performance straordinarie. Vedete esempio la 7S II. Cos'altro? Abbiamo problemi anche di diffrazione, perché sapete che più, in qualche modo, è la densità dei pixel per dimensione del sensore e maggiore rischio di diffrazione, quindi di perdita di dettaglio, chiudendo un po' il diaframma. Anche questo è un discorso lungo, tecnico, ma comunque rimane sostanzialmente questo concetto. E poi dobbiamo ovviamente acquistare computer più performanti, perché devono processare quantità di dati spaventosi, e ovviamente anche a sistemi di archiviazione molto capienti. Per cui, ripeto, con una conseguenza che si va a spendere due, tre volte il costo di un sistema normale. Magari tre volte no, ma due volte sì, se uno rispetta tutti questi aspetti. Quindi, ora, vale la pena, non vale la pena, ragazzi, sta a voi. Io credo che se uno è un fotografo normale, cioè non ha esigenze di stampe enormi, e soprattutto non vende le stampe, cioè un conto è un fotografo che è un fotografo fine art, che stampa molto grande, che vende le proprie opere, a quel punto, cioè tutto ciò che in più di qualità si può ottenere, ci può stare, ok? Soprattutto se è un paesaggista. Ma se siete fotografi normali, che tra l'altro il 90% della gente non stampa, e quando stampa arrivano a tre, sinceramente, ragazzi, andarvi a impelagare con fotocamera ad altissima risoluzione, secondo me, vi date la zappa sui piedi. Questa è un po' la mia visione, ripeto, assolutamente discutibile, ma è un fatto oggettivo quello che vi ho detto. Per cui, personalmente, ritengo questi strumenti, ottimi strumenti di marketing, prima di tutto, perché la risoluzione comunque fa vendere, la risoluzione fa pensare alla gente che quella macchina è migliore, ma, ripeto, credo che sia un prodotto destinato soprattutto a una determinata categoria di fotografi, che di certo non è la massa. Allora, questa è la mia opinione, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate quindi un commento, iscrivetevi, vi ricordo anche che trovate questa riflessione anche su Spotify, sul mio podcast Riflessioni Fotografiche Pro Mirrorless, va bene? Allora, aspetto i vostri commenti e ci vediamo alla prossima riflessione fotografica. Ciao!